Il comune investe su manutenzione e sicurezza delle strade cittadine, una rete di 280 chilometri, dei quali oltre il 20% è stato oggetto di interventi nel 2014. I lavori programmati per il 2015, presentati dal sindaco De Magistris e dall'assessore alle infrastrutture Mario Calabrese, vedranno la conclusione di progetti finanziati negli anni precedenti, per circa 10 chilometri di rete stradale e l'avvio di nuovi interventi. Lo scorso dicembre l'Aggiunta Comunale ha infatti approvato progetti di manutenzione straordinaria e ordinaria per oltre 15 milioni di euro. Saranno interessati circa 15 chilometri di varie arterie principali del Vomero, del centro, fuori Grotta, Chiaia e Capodichino e di alcune strade secondarie come via Vergini. Si bisogna passare dalla fase complicata e passare dalla progettazione per la realizzazione. Quindi c'è un anno davanti molto intenso, duro, che bisogna eseguire per realizzare quanto vende programmato. Poi a fianco a tutto questo ci sono gli interventi anche del grande vende progetto. Io spero che nell'ambito, nel giro di men che un mese, possano cominciare i primi lavori vende sul Napoli Est. C'è un'assegnazione vende provvisoria per gli interventi su via Marina. Adesso sperando che non capitano grandi vende contenziosi, noi speriamo che prima dell'estate possano iniziare anche i lavori su questo tratto vende alla città molto importante. Si intensificano inoltre le attività di pronto intervento stradale svolte da operatori di Napoli Servizi, che operano su segnalazioni degli utenti tramite un portale online in caso di dissesti stradali. Grazie ad un intervento di un milione e mezzo di euro, le squadre presenti presso ogni municipalità, che opereranno tutti i giorni festivi compresi, avranno in dotazione mezzi e attrezzature per effettuare lavori non più provvisori, ma in grado di ripristinare in maniera definitiva la sede stradale. Finalmente parte questo nuovo progetto di ampliamento delle squadre PIS. Da tre squadre passiamo praticamente a dieci squadre, da 43 unità fino al 31-12-2014 passiamo praticamente a 72 unità, con un investimento per le casse dell'amministrazione pari a 1.461.000 euro. Verranno praticamente acquistati nuovi automezzi, nuovi autocarri, quindi autocarri con cassone ribaltabile, automezzi per il trasporto delle persone, fresatrici, termocontainer. Abbiamo messo su un bellissimo progetto affinché le strade cittadine possano essere in modo più soddisfacente e manutenute per i cittadini. Interventi di maggiore qualità, non più solamente l'asfalto a freddo come si faceva quando non c'erano proprio risorse. Questo è il frutto del miglioramento economico della situazione dell'ente, il risanamento della finanza pubblica, finalmente si può cominciare a investire, cominciare a investire, cioè nel senso non è che stiamo navigando nel loro ma possiamo cominciare a ottimizzare i servizi e puntiamo su una società che ha internalizzato diverse mansioni, diversi servizi come appunto Napoli Servizi.